Vogliamo a questo punto proporvi un'esibizione davvero molto intensa. Lei è una bambina a 12 anni, ma ha voluto scrivere e dedicare al suo papà una lettera davvero molto toccante. Lei si chiama Mary Marino. Grazie a tutti. Che fortuna che ho avuto ad averti per quello che dici e per quello che fai. Tu sei il padre più bello del mondo che non cambia. Ho finito pensieri e parole, speriamo che basti e capisci perché. Tu sei stato il regalo più bello che ho avuto da te. Mary Marino! Ma è bellissimo questo brano! Grazie. Mary? La vogliamo fare una sorpresa a papà? Ti va? Visto che questa canzone l'hai dedicata a lui, glielo andiamo a dare un bacino? Vai, chiedi. Dov'è il papà? Ce lo fai vedere? Eccolo lì. Signor papà, c'è Mary che le vorrebbe dare un bacino. E allora ti auguro tante cose belle perché sei una bimba molto profonda e molto sensibile. Grazie. In bocca al lupo per tutto. E l'applauso per te. Grazie Mary. Grazie.